Ciao a tutti! Come farlo tornare dopo aver fatto sesso? Beh, il modo migliore, paradossalmente, è quello di non cercarlo. Perché se tu, dopo che hai fatto il giorno dopo, te l'hai detto, ah, ti è piaciuto, come è andata la sera, sto bello, mi hai fatto godere, tutte queste cose qua, lui tende ad allontanarsi. Tende ad allontanarsi perché è già stato, come dire, un compito esaurito. Come dire, missione compiuta e adesso guardiamo oltre. Se invece tu il giorno dopo non lo cerchi, non ti fai sentire, eh, lui inizia ad avere un dubbio, inizia a dire, che vuoi dire? Vuoi vedere che questa, cioè, poi alla fine ci hai pensato, già durante la sera stessa non devi dimostrare tutta questa enfasi, però non ti fai sentire e allora vai a creare un vuoto, vai a creare un qualcosa che non si capisce bene. E lui inizia a sentirsi magari svilito come maschio perché dice, magari non gli sono piaciuto, come mai questa cosa qua, non si fa sentire. E allora sarà lui che verrà a cercare te e allora quel piano piano potrai ritirarlo e riportartelo all'ovile, diciamo, e farlo ritornare. E acquisendo molto potenziale perché nel momento in cui lui sarà lui a cercarti, il tuo potenziale sale, sale di livello. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici. Ciao!